ciao e benvenuti a tutti oggi voglio parlare delle licenze open e del copyleft perché sono così importanti sono importanti perché pensiamo che siano alla base di una cultura basata sulla meritocrazia sulla condivisione sulla collaborazione una cultura più umana e più democratica allora cos'è il copyleft il copyleft non è altro che un copyright un pochettino più aperto spieghiamo la persona che crea l'opera che sia digitale o di qualsiasi altra materiale che è fatto poco importa è il detentore del copyright e questo di qua è invariato perché rimarrà sempre così però acconsente a distribuire a distribuire la propria opera anche ad altri c'è nel senso gli altri possono utilizzare la sua opera l'unica cosa sono l'attribuzione che la maggior parte è obbligatoria dipende pure da dalla tipologia di opera e dall'autore stesso e la tipologia di licenza perché le licenze possono essere new e creative commons tra creative commons ce ne sono differenti quindi magari ci sono delle licenze molto aperte che permettono di modificare di condividere e allo stesso tempo di commercializzare se ne sono alcune un pochettino più chiuse che permettono soltanto di condividere ma questo aspetta soltanto al detentore del copyright ora per quale motivo sono così importanti come vi ho detto noi prima creiamo una società più democratica basata sul dare e dell'avere perché dato da entrambi le parti le licenze copyleft possono essere sia un prezzo sia per l'autore e il detentore e anche per le persone che usufruiscono delle opere che altrimenti sarebbero a pagamento o comunque chiusa allora il detentore tramite l'attribuzione è abbastanza visibile perciò se la sua opera è molto gradita verrà comunque sponsorizzata dalle stesse persone che la stanno utilizzando le persone che invece utilizzano l'opera comunque riescono a creare magari dipende dalla licenza creare qualcosa di nuovo partendo da un'opera già presistente oppure soltanto acculturarsi che anche questo è importantissimo quindi a prescindere c'è sempre un ritorno un dare e un avere ovvio che comunque secondo me quello che comunque riceve di più e sono quelli che usufruiscono dell'opera però noi anche noi possiamo fare del nostro meglio per permettere sempre la diffusione maggiore di attribuire in modo maggiore e soprattutto nessuno ci vieta magari di fare anche delle donazioni un'altra cosa che voglio sfatare molte volte si parla di copilest come se fosse solamente gratuito molte volte è così però alcune volte invece può essere anche a pagamento ciò significa che io metto una licenza copilest e allo stesso tempo metto anche un prezzo a livello digitale io prediligo quelle gratuite ma perché è un fattore mio però ognuno è libero di far quello che vuole poi il detentore dei copyright è anche giusto che guadagni se vuole però comunque come principio base non ci sta dietro il guadagno ma ci sta proprio l'umanità il concetto di diffusione della cultura e dare a tutti gli strumenti per creare qualcosa di nuovo infatti solitamente proprio queste licenze permettono proprio la creazione sempre di più di nuovi progetti di nuovi prodotti perché utilizzano già dei delle basi già preesistenti quindi non passano sempre da zero questi progetti e si formano sempre di più sempre di più altri progetti ed è così carino bellissimo a livello proprio di concetto questo secondo me sono le cose più importanti un esempio pratico che voglio farvi è per esempio ora tutti conosciamo youtube sappiamo che cos'è lo sharing di video e tutto il resto oppure vimeo un'altra posta forma molto interessante quando ne creiamo i nostri video molte volte vogliamo farli più accattivanti quindi magari inseriamo determinate cose le miniature e anche la musica la musica ha un aspetto diciamo che coppa un aspetto molto importante anche del video quindi vogliamo fare un intro particolare vogliamo trovare una musica però anche la musica magari c'è il copyright e quindi anche lì dobbiamo stare attenti però non preoccupatevi perché ci sono molti siti che si dedicano proprio a selezionare delle risorse gratuite open alcuni sono interamente sotto licenze libere altri invece hanno soltanto delle sessioni e sezioni scusate qui praticamente abbiamo un elenco di alcuni siti che si occupano proprio di questo quindi audiopharm cc mixer free stock music giamendo free music archive drama core free loops free sound incompetech e off sound sono dei siti non vi preoccupate che comunque tanto verranno inseriti nella distruzione del video che proprio permettono di utilizzare audio musica però ogni volta come ho detto precedentemente state attenti leggete le leggete bene le licenze e soprattutto se magari trovate qualcosa che non è sotto licenza aperta non utilizzate la allora perché è importante usare questi strumenti perché permettono alla creazione di nuovi progetti più grandi e e magari sarebbe l'ideale creare progetti più grandi sempre sotto licenze open e quindi innescare quel meccanismo che porterà poi a un diciamo a un abbandono proprio del copyright e un'altra cosa che voglio che mi frema dire è il fatto che comunque queste licenze aperte fanno risparmiare anche soldi anche se molte aziende non ancora non hanno capito bene come funziona queste licenze non deve essere controllate perché tu già dai la possibilità agli altri di condividerlo quindi vuoi non vuoi anzi più si diffondono meglio invece quando c'è una chiusura quindi c'è un copyright le aziende che magari hanno una mona di informazioni tale che ovvio che magari in quella mona di informazioni cercano di prenderci di guadagnarci ma allo stesso tempo devono controllare che queste risorse vengono utilizzate nel modo giusto quindi praticamente ogni persona che magari paga ha quella risorsa e non la condivide e lì ci sono sempre delle spese quindi farsi i calcoli bene entrate uscite quindi questa tipologia di concetto secondo me è un pochettino obsoleta e secondo me anche a livello di guadagno ce n'è poco rispetto a prima perché ormai la conoscenza e la diffusione insomma sono molto ma molto più veloci rispetto a prima questo è più o meno quello che volevamo dirvi utilizzate le licenze open create qualcosa di interessante soprattutto ridatelo con una licenza aperta così riusciremo a debattere la grande magagna del copyright ovvio che questa è la mia idea ognuno la pensa come vuole non voglio condizionare nessuno però secondo me provare non è mai non ho fatto non ho acceso mai nessuno quindi con questo è il saluto e ci sentiamo alla prossima video